il verde mondo non è solo prodotti accessori ma anche animali e allevamento il nostro lavoro nasce dalla nostra passione la nostra passione nasce dagli animali oggi vi presentiamo gli animali che gestiamo nel verde mondo da dove è partita la nostra azienda il nostro lavoro e la nostra passione il nostro corso gratuito www.mesmerism.it 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 Grazie per la visione!